Buongiorno, oggi in gastronomia ho preso questo bel pezzo di treccione di mozzarella, poi con i pomodori, pomodoro cuore di bue, pomodorini d'attelini e basilico, adesso creerò una portata che va bene sia come antipasto che come cena fredda. Allora, per quanto riguarda la mozzarella ho fatto soltanto delle fessurine, vedete, una, due, tre e quattro, e ho messo le fette di pomodoro in mezzo, il basilico e qui il restante del pomodoro. Ora poi aggiungerò gli altri pomodorini intorno e guarnirò con un filo d'olio. Ecco qua, quindi praticamente in poco tempo, anche se avete delle mozzarella intere, basta tagliarle soltanto un pochettino, come ho fatto io qui, poi mettere in mezzo le fette di mozzarella, scusatemi, di pomodoro, e guarnire poi anche con altri pomodori, pomodorini, basilico, e quindi questa è una sorta di caprese, però presentata in modo diverso. Chiamiamola Caprese Bella Italia, va, che sono proprio i colori della nostra bandiera. Mettiamo soltanto un filo d'olio, e poi il sale, mi consiglierei, infatti come farò anch'io, di metterlo proprio prima di degustarlo, perché sapete che il sale sul pomodoro, se no poi dopo il pomodoro crea troppa acqua. Quindi al momento poi della degustazione, mettiamo il sale sopra. Ok? Se gravite potete aggiungere anche dell'origano, ma io ho preferito mettere solo tanto basilico. Alla prossima, buona degustazione a tutti!